Castiglione della Presolana ha aperto il raduno dei Forze Italia, tre giorni con ministri, sottosegretari, parlamentari, assessori e consiglieri regionali del partito di Silvio Berlusconi. Alma Laure ha confermato i dati positivi del caso Bergamo e il 93,4% degli studenti soddisfatto dell'esperienza. Presentato il Festival Onore Cultura dal 1 al 4 luglio, iniziativa ingresso libero ma super notazione. Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Antena 2. Un veicolo è finito fuori strada questa notte poco prima delle due nella zona di Val Canale di Ardesio in via Alpecorte, rimasto coinvolto un uomo di 77 anni che è stato poi soccorso da un'equipe della Croce Blu di Gromo. L'anziano non ha riportato gravi ferite, è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Piario. Spontro automoto arriva di solto nel pomeriggio di oggi, l'episodio è avvenuto in via Galleria lungo la strada che costeggia il lago di Seo. Soccorsi due giovani, una ragazza di 18 anni e un giovane di 20 anni sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Blu di Lovere in codice verde. Intervento del risoccorso questa mattina poco prima delle 12 in un'area impervia sopra Gandino, nella zona del rifugio Baita Monte Alto. Soccorso un uomo di 72 anni colto da un malore. Il 72 anni è stato portato in codice rosso all'ospedale di Seriate. La Lombardia sarà la prima regione che raggiungerà l'immunità di comunità, lo ha detto la Vicepresidente di Regione Lombardia e Assessore al Welfare Letizia Moratti. Il piano vaccinale della Lombardia prosegue in maniera spedita. A oggi siamo a 7 milioni e 7 di somministrazioni e al lunedì raggiungeremo gli 8 milioni. Abbiamo una media circa di circa 100 mila vaccinazioni al giorno e da qui al 21 avremo recuperato tutte le vaccinazioni che sono state sospese per il cambiamento deciso dal Governo e da AIFA rispetto al piano vaccinale con le seconde dosi di AstraZeneca diverse rispetto alle prime. Raggiungeremo quasi sicuramente l'immunità di comunità entro i primi 10 giorni di luglio e siamo sicuramente la regione che sta somministrando e che ha somministrato le dosi di vaccino alla popolazione più fragile. La Lombardia sta mettendo anche in campo un piano per far andare in vacanza i ragazzi con meno di 18 anni almeno con una dose e per far ricominciare la scuola con entrambe le dosi effettuate. Ce lo puoi spiegare? Nelle ultime due settimane di luglio, nella prima settimana di agosto, saranno messe a disposizione 100.000 dosi da somministrare ai giovani in modo tale che possano partire in vacanza sicuri e poter avere la seconda dose a fine vacanza, quindi senza dover interrompere le vacanze. A questo si aggiunge che da settembre estenderemo la sperimentazione che abbiamo fatto sui test salivari, anche questo per avere l'obiettivo di rendere più sicuro l'inizio delle scuole. Dal 25 giugno poi sarà anche possibile cambiare la data per i richiami? Sì, attraverso il portale della regione, attraverso poste, sarà possibile per una volta poter modificare dal 25 giugno la giornata della seconda dose vaccinale. Questo per andare incontro, anche in questo caso, alle persone che hanno già prenotato le vacanze e che quindi hanno necessità di dover avere una data diversa, ma anche per andare incontro a quelle persone che al di là delle vacanze, per impegni professionali o per impegni personali importanti, hanno necessità di cambiare la data della seconda dose. Ieri sera Castione della Presolana è stata aperta da tre giorni con i principali esponenti di Forza Italia, dal titolo Italia ci siamo, ministri, sottosegretari, parlamentari, assessori e consiglieri regionali, complessivamente 150 persone del partito di Silvio Berlusconi, che potrebbe anche chiudere la giornata di domani. Cinque le conferenze che si sono ottenute oggi, ricordiamo i titoli, la sfida delle Green Deal, proposte oltre gli slogan, turismo, agenda digitale e cultura, assemblea con parlamentari e consiglieri regionali di Forza Italia, comuni e regioni da nord a sud, la forza di un Paese unito e parola d'ordine, riforme. Ma vediamo questo servizio. Una tre giorni intensissima a Castione della Presolana, quindi in quell'alta Val Seriana che è stata, diciamo, protagonista in tempi tristi e che noi vogliamo che invece diventi protagonista oggi nella ripartenza, nella resilienza e nel fatto che si crei una rivoluzione virtuosa e che quindi anche attraverso questo primo momento di un movimento politico di Forza Italia che sceglie a livello nazionale di portare qua tutta la sua forza di governo, governo europeo, governo nazionale, governo regionale come grande auspicio, grande auspicio per fare in modo che questa terra possa ripartire. Questa terra bergamasca che io ovviamente porto nel cuore, di cui sono profondamente orgogliosa perché ha dimostrato nel momento più buio, nel momento più terribile due grandi cose fondamentali. La profonda dignità della propria gente e il profondo spirito di solidarietà e di collaborazione che ci ha portato a resistere ed essere qua oggi con le nostre cicatrici, però forse più forti di prima determinati a ricominciare. E Forza Italia oggi porta qua il suo messaggio. Qual è il messaggio di Forza Italia? Il messaggio di Forza Italia è quello di un movimento liberale, riformista, popolare, solidale, europeista, garantista, con matrice cattolica e occidentale. E quindi è il messaggio di un movimento centrale all'interno della coalizione di centrodestra, imprescindibile, proprio perché rappresenta un po' l'ago della bilancia, il punto di equilibrio. Noi siamo quelli non integralisti, noi siamo quelli che valutano caso per caso le situazioni e intervengono. Prova ne è che oggi con il governo Draghi e Draghi ha avuto un talent scout d'eccezione, quel Silvio Berlusconi che lo vuole fortemente a capo della Banca d'Italia, che lo vuole fortemente a capo della Banca Centrale Europea e che oggi è una personalità autorevolissima che ha ridato quella reputazione all'Italia che l'Italia stava perdendo con i governi precedenti, con il Movimento 5 Stelle, con il populismo esasperato. E le riforme che oggi noi andiamo ad attuare, a partire dalla riforma fiscale, io qua ho il mio vice ministro che ne è parte attiva, riforma della giustizia, riforma del lavoro, riforma del welfare, riforma della scuola, sono tutte riforme della pubblica amministrazione che hanno la matrice nelle proposte di Forza Italia, ma non da oggi, bensì dalla prima ora. Questo è un territorio duramente colpito dalla pandemia, ma è anche ricco dal punto di vista proprio della imprenditoria. Ora il tessuto locale cerca di guardare alla ripartenza, ma quale deve essere lo sguardo? La prima cosa che viene in mente proprio arrivando in questo territorio è cosa ha vissuto un anno fa e naturalmente su questo davvero c'è quel velo di tristezza che non può andare via. Dall'altra parte però il vedere che c'è una forza, una capacità delle persone, dell'imprenditoria, del sistema, degli amministratori locali, degli amministratori di questi piccoli comuni che hanno dato l'anima in quel periodo e adesso danno l'anima per permettere che tutto non solo ritorni come prima, no, che tutto possa essere molto più di prima, molto più di prima nella produzione, molto di più nella creazione di posti di lavoro, molto di più di benessere. La Lombardia e i territori come questo che sono la locomotiva d'Italia, sanno di essere la locomotiva d'Italia, ma noi siamo orgogliosi che siano la locomotiva d'Italia, questo è l'obiettivo e ha dimostrato proprio davvero in questo anno e mezzo che si può appiccicare il territorio resiliente, il termine resilienza che fino a un anno, un anno e mezzo fa non veniva utilizzato significa capacità di adattarsi, qui altro che capacità di adattarsi, capacità di andare ben oltre, grazie. I numeri di Alma Laurea 2021 confermano i dati positivi dell'Università degli Studi di Bergamo e quanto emerso ieri con la presentazione avvenuta proprio a Bergamo del rapporto nazionale. Il 93,4% degli studenti dell'Ateneo Eurobico è soddisfatto dell'esperienza complessiva. I dati più significativi sono quelli relativi innanzitutto al tasso di occupabilità a un anno, a 3 e a 5 dal conseguimento del titolo di studio nella nostra università, è un dato molto alto, significa che oltre l'80% dei nostri laureati a un anno trova un'occupazione coerente con il titolo di studio. Questo è un dato per noi molto importante, se legato al fatto che oltre il 70% dei nostri laureati compie un'esperienza lavorativa di tirocinio riconosciuto dal corso di studi nel percorso formativo. Quindi sono studenti, da questa fotografia esce in modo molto evidente, che sono molto adattivi, flessibili e hanno un'esperienza all'estero. Quindi il dato per noi fondamentale è anche quello relativo al fatto che oltre il 93% di questi studenti si ritiene soddisfatto dell'esperienza universitaria nella nostra università. Quindi il dato per noi è importante sul grado di soddisfacimento, ma soprattutto ancora una volta testimonia quanto convenga sempre di più laurearsi. A 700 anni della morte di Dante Lighieri, l'amministrazione comunale di onore, in collaborazione con Promoserio, con il patrocinio di Regione Lombardia, della provincia di Bergamo, del club alpino italiano della provincia di Bergamo e del comitato di Bergamo della Società Nazionale Dante Lighieri e con il coordinamento scientifico del professore Marco Cemmino, ha organizzato un festival culturale dedicato al sommo poeta. Le quattro serate della rassegna Festival Onore e Cultura sono al via giovedì 1 luglio con l'inaugurazione ufficiale. L'ingresso è gratuito ma con prenotazione. Sentiamo a tal proposito il sindaco Michele Schiavi, il professore Marco Cemmino e il vice sindaco di Onore Ettore Schiavi. Onore ha lavorato a un festival dedicato alla cultura. Sì esatto, quest'anno lanciamo la prima edizione del Festival Onore e Cultura in programma dal primo al 4 di luglio, un festival in cui crediamo molto che abbiamo deciso di dedicare a Dante Lighieri proprio nell'anno in cui ricorre l'anniversario dei 700 anni dalla morte di Dante. Un festival che è anche un rilancio per tutto il settore culturale e artistico. Abbiamo voluto coinvolgere il teatro, l'arte, la letteratura e veramente relatori di fama nazionale e competenti ognuno nelle proprie materie. Crediamo molto nella cultura, crediamo molto in quella che può essere la promozione anche del territorio grazie alla cultura ed è per questo che abbiamo fatto un investimento economico e di risorse umane molto importante. Il festival si tiene dal primo al 4 luglio, l'ingresso è gratuito ma con prenotazione obbligatoria. La prenotazione è possibile su tutti i canali di Valseriana.eu e di Borghi della Presolana.com, quindi sia online, sia tramite mail che numero di telefono. Il festival si tiene all'aperto sul piazzale del Comune di Onore anche in caso di pioggia e nel rispetto di tutte le normative anti-Covid. Professor Cimmino, ci può anticipare i contenuti anche degli interventi? Sì, noi abbiamo pensato a un festival a 360 gradi cercando da una parte di celebrare Dante nell'anniversario della morte ma dall'altra parte contemporaneamente di valorizzare le risorse locali, la cultura, la tradizione delle nostre valli. Per cui ci saranno degli interventi legati alla montagna con Paolo Valotti, legati alla storia della valle con la professoressa Poloni, poi ci sarà Valagussa che parlerà dell'arte. Insomma cerchiamo di colpire tutti gli obiettivi possibili e immaginabili perché questo festival è una grande occasione per l'Alta Val Seriana e ci tengo a dire che spesso e volentieri le iniziative migliori partono proprio dalla periferia dell'impero e non dal centro. Onore è una bellissima località turistica ma non è soltanto questo, vuole essere anche un piccolo polo di cultura e credo che i ragazzi ci siano riusciti. Accanto al festival è stata promossa anche una mostra fotografica? Esattamente, sempre nella stessa piazza del festival ci sarà una mostra fotografica con foto raffigurante Onore nella prima metà del Novecento. Questa idea c'era nata in seguita dal calendario di Onore dove appunto avevamo messo delle foto storiche con delle curiosità sul nostro paese. Facciamo questo perché riteniamo che sia importante la valorizzazione della cultura e della storia anche da parte di amministrazione dei piccoli borghi e quindi abbiamo organizzato questa mostra che sarà aperta tutta la prima settimana di luglio nello stesso piazzale del festival di Dante Alighieri. Scade alle ore 21 del 16 luglio il termine per la presentazione delle offerte per l'aggiudicazione della concessione in affitto del rifugio alpenistico Magnolini sul territorio del comune di Costa Volpino e delle CAI di Lovere. La durata contrattuale è di sei anni, rinnovabile di altri sei. Il rifugio, sito in località Pian della Palù, a 1625 metri di altitudine, è dotato di 25 posti letto per gli ospiti. Possono partecipare al bando imprenditori individuali, imprese, comprese le cooperative, associazioni, purché per norma statutaria possano gestire direttamente la struttura e siano in possesso dei requisiti necessari per esercitare l'attività prevista. Le associazioni non potranno limitare la fruizione della struttura ai soli soci. Le domande vanno presentate a mano alla sede delle CAI di Lovere, dove saranno protocollate. Maggiori informazioni possono essere consultate sul sito internet all'indirizzo www.cailovere.it. E ora andiamo a Rovetto, dove è ricco il calendario per gli eventi dell'estate 2021. Sentiamo l'assessora del Comune con delega ai settori sviluppo delle attività turistiche e ai rapporti con le associazioni Marco Migliorate. Stasera siamo qua con la Proloco e le associazioni del Paese per presentare il programma estivo degli eventi. Sono parecchi, abbiamo street food i primi di luglio, poi ci sarà a metà luglio l'arrivo del Pisa Calcio, dove ci sarà un evento anche in piazza di presentazione della squadra. Ci sono un paio di feste al parco, dove verrà fatto anche da cucina. Ci sarà la Sagra dei Bairtù a Ferragosto, in paese, in centro storico. Due eventi verranno fatti a San Lorenzo, uno al parco giochi e uno anche lì nel centro. Metteremo giù delle tavolate, dove verrà fatto anche lì un concerto in piazza, una novità. Quindi ci sono parecchie novità e parecchie nuove iniziative che copriranno quasi tutti i weekend di luglio-agosto. Ecco, il Pisa Calcio in ritiro sul territorio è proprio un'occasione per Ovetta. Sì, è una grande occasione avere qua il Pisa Calcio, una squadra di serie B, per noi da punto di vista sia sportivo che turistico. Sportivo perché riapriamo finalmente il centro sportivo, anche se viene utilizzato nelle nostre società adesso per gli allenamenti, però finalmente con una squadra di livello. Anche da un punto di vista turistico, perché la società Pisa Calcio si aspetta parecchi tifosi nei weekend in cui saranno qua in ritiro. Sarà un turismo che con la gente che si ferma a dormire li aspettiamo tanto anche in centro, anche a fare visite all'interno del nostro paese, a fargli vedere tutto quello che c'è sull'altopiano. È uscito già il libretto della Proloco con le manifestazioni estive, è tutto un po' in fase ancora organizzativa perché noi speriamo di fare tutto quello che c'è sul libretto, però con la pandemia in corso non sappiamo bene se proprio riusciremo a fare tutto. Noi speriamo di farlo e abbiamo pronto un bel programma. Vi invitiamo quindi a passare in ufficio anche solo a ritirare il libretto o sul sito internet a visitarlo per vedere gli eventi e ci teniamo come amministrazione a ringraziare l'associazione, la Proloco di Rovetta e l'associazione sportiva di San Lorenzo che ci stanno appoggiando in questa organizzazione di eventi sull'estate per il turista. La pandemia come noto ha messo in difficoltà numerose strutture del settore ricettivo e della ristorazione. A Dardesi oggi abbiamo colto un bel segnale di ripresa con l'inaugurazione di una nuova sala presso un albergo del territorio. I mesi della pandemia sono stati sicuramente complicati, ci può un po' anche ripercorrere come è andata e come avete deciso anche di rispondere di fronte a una situazione come questa. Abbiamo deciso di fare questi lavori nonostante i tempi, ci siamo consultate più volte e abbiamo deciso di affrontare questo intervento anche importante sotto tanti punti di vista perché innanzitutto siamo fermi col lavoro, essendo fermi non è che puoi avere delle entrate per cui abbiamo deciso questa cosa e sono sicura che andrà bene. Siamo orgogliose di quello che stiamo facendo per noi, per i nostri collaboratori e per la popolazione tutti i nostri clienti insomma. Io sono fiera, mi faccio i clienti da sola. Emozionate di questo momento? Perché sono stati dei momenti un po' difficili. Comunque io sono sicura che ce la faremo e forte coraggio. Grazie a tutti, grazie a voi, grazie comunque della fiducia che tanta gente ci ha dato e faremo di tutto per soddisfarli. Grazie. E ora ci occupiamo delle CAI di Clusone e delle sue prossime iniziative. Sentiamo il presidente Claudio Ranza. Abbiamo un ricco programma e lo presenteremo di volta in volta, ovvero di mese in mese, visto che la situazione purtroppo non è ancora chiara e quindi non possiamo fare programmi a lungo periodo. Abbiamo un importante progetto, una continuità, non è un importante progetto, è una continuità di lavoro che è quella sui sentieri. Infatti ci vedrà impegnati con un programma di alcune giornate sulle nostre montagne. Domenica prossima, il 20 giugno, saremo impegnati sul versante sud della Presolana, quella sopra la baita Cassinelle di Fugio Carlo Medici, a sistemare il sentiero che sale dal Gulter, Cimo Gulter, per il collegamento con il Visolo, che in alcuni tratti ripresenta dei pezzi non sistemati, poi anche le intemperie, le slavine, eccetera. Insomma, manutenzione e messa a punto di quel sentiero. Rimetteremo a posto anche la segnaletica orizzontale nel tratto che scende dal Visolo alla Cappella Savina. È un tratto che necessita di rifacimento della segnaletica soprattutto per le cose che ho detto prima, cioè per le intemperie. La settimana successiva, domenica successiva, è il tratto di percorso che va dalle baite di rigada verso la baita alta di Remescler. È un sentiero che va rimesso a punto, riattrezzato, perché si è perso un po' nelle malghe. Si è perso un po' con la vegetazione. Proseguiremo anche poi con una due giorni, soprattutto nella sottosezione di Castione, per la rimessa e rifacimento del sentiero che collega Denzil con il cornetto basso, la cosiddetta valle del Papa. Segnalo poi da ultimo che gli amici della sottosezione della Onetta Val del Riso passeranno quattro giorni nel periodo di Ferragosto come base al bivacco Telini, lavorando e sistemando i sentieri nei dintorni che salgono anche fino al Grem, ma non solo. Questo per quanto riguarda i sentieri. Montagna ragazzi, anche quest'anno non siamo riusciti ad organizzarla, ovviamente per i motivi Covid come l'anno scorso e così come le uscite di alpinismo giovanile non si riescono ad organizzare. Non ci sono le condizioni che ci permettono di organizzarle e di effettuarle in serena sicurezza. Però la nostra commissione di alpinismo giovanile lavora continuamente e vuole tenere i contatti soprattutto con i nostri giovani e bambini e quindi organizza anche quest'anno la seconda edizione di Montagnart, che è un concorso per bambini e ragazzi dalla prima elementare alla terza media compresa e i quali dovranno inviare alla mail caiclusone foto, poesie, testi, video o quant'altro a tema specifico della montagna. Questo entro il 18 luglio con premiazioni che avverranno in Corte Sant'Anna nella serata di venerdì 6 agosto. La programmazione televisiva per questa sera sul canale 88 di Antenna 2 alle 21.45 trasmetteremo la rubrica religiosa Mania Nubiscum alle 22.10, la rubrica di medicina Salus TV alle 22.30 la seconda edizione del nostro telegiornale alle 23.20 la rubrica più salute in usa alla mezzanotte e mezza la terza ed ultima edizione del nostro telegiornale. Il notiziario di Antenna 2 tornerà in onda alle ore 21.30 ma sul canale numero 218 delle digitali terrestre. Sul canale sportivo al numero 628 alle 20.30 trasmetteremo Antenna 2 Sport a cura di Elisa Cucchi alle 21.30 la rubrica di sport Hard Track. Armanacco per domani domenica 20 giugno, il sole sorge alle 5.24 e tramonta alle 21.20, il culmine alle ore 13.22 e la durata del giorno è di 15 ore e 56 minuti. La luna sorge alle 16.02 e tramonta alle 3 del giorno successivo. La fase lunare la luna è crescente ed è visibile al 68%. La chiesa ricorda Sant'Ettore. E con questo è tutto, vi ricordiamo che a seguire vi saranno le previsioni del tempo a cura del meteorologo Matteo Lacavalla. Grazie e buon proseguimento di serata a tutti. Grazie a tutti.